Salve a tutti e ben ritrovati sempre su Pausa Caffè, sempre in compagnia di Max, se vi fa piacere per ascoltare le varie news che riguardano un po' tutto quanto. Questa ad esempio la Royal Family, ci andiamo ad impicciare perché Kate Middleton incanta letteralmente Wimbledon. Perché? Perché la principessa del Galles è stata vista oggi sugli spalti insieme a Roger Federer, insomma non un pinco pallo qualsiasi. I due, tutti sorrisi e risate, sembrano essersi divertiti abbastanza assistendo al match tra la statunitense Shelby Rogers ed Elena Rickbakina del Kazakistan. Beh, insomma, un incontro bello scoppiettante. Lei in verde menta con un blazer balmain e un abito midi plissettato, una scelta di colore inusuale per la principessa. Lui incompleto con camicia a righe, hanno scherzato e riso per tutta la partita sotto l'obiettivo dei fotografi. Tra i due, spiegano i tabloid, c'è un'amicizia che va al di là della passione per il tennis, insieme hanno lavorato a diversi progetti, ultimo un video sul lavoro dei racattapalle girato lo scorso giugno. Nel 2017, ricorda il Daily Mail, Kate ha addirittura infranto il protocollo reale stampando ben tre baci sulle guance del tenista, all'epoca vincitore del torneo. Chi oggi non è sembrato altrettanto felice è stata la moglie dell'ex tenista Mirka, sugli spalti insieme ai due con un'espressione molto meno gioviale. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, oh è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.